ciao ragazzi come avete visto i due swing di prima è il classico che vediamo che fanno i dilettanti in campo tirano dei legni da terra i legni da terra sono importanti perché ti permette di fare distanza vuol dire avvicinare il green vuol dire avere un colpo più corto al green che mi permette di prendere il green e magari faccio due o un pazzolo così abbassa il score è chiaro avete un po di paura di questo è lungo è poco inclinato la testa è più grande questo è un legno tre c'ho tipo 14 o 15 gradi di inclinazione allora la testa mi dice deve alzare questa palla cosa sono le cose che vedo ci sono tre cose che vedo che spagliano soprattutto i dilettanti il primo è la posizione della palla la posizione della palla loro mettono come un driver troppo a sinistra ok non è un colpo che vogliamo colpire salendo non c'è un t sotto la palla vogliamo colpire leggermente scendendo questo è il primo secondo un backswing deve essere compatto controllato non come fa tanti dilettanti che pensano devo fare distanza mi devo muovere bene se muovono fuori asse perde potenza e quando scende giù sono meno preciso e il terzo spostamento dal peso cosa vedo i dilettanti pensano ok devo alzare questa palla si spostano il peso sulle gambe destra e cosa succede qui o zappo o prende la palla in testa questi sono i tre difetti che oggi in questo video cerchiamo di migliorare allora partiamo con la prima posizione della palla allora quando mi metto in posizione io metto la palla circa due palle ok due palle mezza sinistra del punto fammi mettere così se vedete bene sulla telecamera due palle un po verso centro dal piede sinistro per un giocatore destro ok questa posizione se vedi qui ottimale per tirare un legno uno può spostare leggermente indietro o leggermente davanti ma più o meno questo un punto di riferimento così mi permette colpire la palla al punto più basso del mio swing significa non proprio scendendo ma quasi ma sicuramente non salendo ok questo regolo numero uno passiamo al secondo mio backswing cosa vuole di un backswing vuole un backswing compatto ma non troppo lungo dove possa creare energia non perde precisione allora quando mi metto in posizione io cerco di spazzolare voglio ampiezza in questo momento spazzolare già l'erba indietro ma non mi sposto insieme il bastone mio obiettivo è ruotare vedi che mio lanca va indietro la tasca del mio pantaloni va un po indietro così sto ruotando in asse spazzola l'erba sento il bastone che mi arriva tipo a metà o tre quarti allora questo punto qui sono pronto per scendere e questa è la terza cosa il terzo è spostare il peso ok io devo schiacciare contro la gamba sinistra per un giocatore destro è fondamentale allora quando io spazzolo indietro io questo punto devo sentire che vado contro così sto creando un angolo un po più aggressivo verso la palla e posso colpire scendendo ok mio obiettivo è spazzolare l'erba io voglio spazzolare dall'interno verso esterno tante delle tanti cosa fanno sulla destra swing verticale troppo aggressivo verso giù allora spazio carico sposto il peso lascio il bastone cascare leggermente dall'interno così posso cominciare a creare ampiezza e posso spazzolare bene l'erba guarda da dentro fuori spazzolo e via guarda come le mie mani finiscono bene in alto ok c'è questo finisce alto ho girato tutto le sensazioni di spazzolare l'erba mentre che scendi ok guarda su spazzolo indietro rotare la tasca senti una posizione qui da qui sposto il peso il bastone comincia a scendere a questo punto qui posso spazzolare finisce in alto questo è fondamentale io voglio spazzolare via la palla scendendo leggermente allora facciamo una prova vediamo facciamo due swing e poi tiro una palla ok c'ho la palla posizionato due palle a destra centrale a destra del piede sinistro scusami spazzolo giro faccio cadere via faccio un swing tre quarti vado ok vediamo perfetto lo spazzolato via ho toccato l'erba insieme la palla mi è andata via una meraviglia addirittura ho preso un leggero draw queste sono le cose per migliorare per tirare questi legni bene da terra bio best se ti è piaciuto questo video schiacciate il bottone like condividi con un amico poi seguimi su mio canale youtube danni di golf ciao 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 ciao